L'idea è quella di creare spazi di relazione, di riflessione e di azione che permettano un legame tra periferie e centro, tra razze, culture, generi e idee differenti. Nasce in Abruzzo il progetto La Cultura dei Legami, che prevede la collaborazione tra quattro realtà importanti del teatro regionale, in rappresentanza delle quattro province abruzzesi, Teatro dell'Imediato di Pescara, Maglab di Chieti, Terra Teatro di Teramo e Arti e Spettacolo di L'Aquila. Per Cultura dei Legami intendiamo la possibilità di utilizzare il teatro come quella forza che può compensare le frammentazioni del vivere comune. Questo è un progetto sostenuto dalla Fondazione Aria, a cui io penso da tanti anni, e il legame è un grande contenitore che cercherà attraverso il teatro di indagare tutte quelle situazioni di frattura e di frammentazioni che sono quelle tra centro e periferia, tra generazioni diverse, tra microcosmo e macrocosmo, ma anche tra abilità e disabilità. È un progetto che creerà per la prima volta, su un contenuto così forte, una rete abruzzese. Ognuno svilupperà autonomamente un proprio percorso, che in realtà è già iniziato, su tutto quindi il territorio, che avrà un esito di spettacolo. Tutto questo poi si comporrà in un festival, che avrà una prima edizione nel Teatro Comunale di Città Sant'Angelo in autunno. Ci saranno ospiti importanti di livello nazionale, con cui noi teniamo da sempre un confronto per dare un respiro anche importante ai nostri progetti. Grazie.